Dante alla Dante ritorna con il professor Trifone Gargano. Questo è il titolo dell'incontro che si è svolto presso la scuola Dante Alighieri di Lucera, un incontro formativo per gli alunni delle seconde classi presso i locali del plesso di Viale Dante. L'iniziativa è stata curata dalla professoressa Sabrina Grafone del Dipartimento di Lettere che ha previsto un percorso ludico-didattico innovativo su Dante Alighieri e aveva come obiettivo di incuriosire e appassionare gli alunni promuovendo un approccio al testo letterario più moderno, empatico e coinvolgente. L'incontro si è articolato in tre distinte fasi. La prima, giochiamo con Dante, momento ludico-didattico in cui gli alunni attraverso giochi interattivi creati dal professor Gargano sono stati catapultati nel mondo della divina commedia. Il secondo, incanta Dante, ha visto alcuni alunni declamare versi tratti dalla divina commedia con l'intermediazione del professor Gargano attraverso un percorso simbolico. Il terzo momento, a tavola con Dante, un percorso letterario correlato al cibo nella commedia con valenza sia reale attraverso le immagini del bere e del mangiare, sia simbolica. Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Thomas Nelighieri, la professoressa Francesca Chiechi, che ha commentato questo serve ai nostri ragazzi, questo deve fare la scuola, proporre spunti nuovi percorsi alternativi, anche disorientanti, per incuriosire e far apprendere, ascoltare voci differenti per stimolare la curiosità, illuminare e condurre mano nella mano o mente nella mente i giovani a riflettere e trovare il proprio punto di vista. All'incontro erano presenti alcune mamme, in rappresentanza delle rispettive classi, che hanno distribuito focacce, pizze e pan di spagna, tipica specialità dell'epoca dantesca.